Lo snapshot di oggi è una delle cose che più richiedevamo da anni in Minecraft Non ci credete, guardate qui, hanno aggiunto le varianti dei lupi Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo video sullo snapshot 24v10a della versione 1.21 Eh sì, avete capito bene, hanno aggiunto le varianti dei lupi Una cosa davvero inaspettata per quanto fosse una delle feature più richieste dalla community Sul sito dei feedback e tutto il resto Ormai non ci speravo più personalmente Dopo l'aggiunta delle armature colorate I cani, o lupi che dir si voglia, hanno una tale personalizzazione possibile Che quasi non speravo più di avere altre personalizzazioni come diverse varianti E invece le abbiamo avute Qui Mojang ci ha ascoltato E come i gatti hanno diverse varietà Ora anche i lupi ne avranno diverse Esattamente nove E in questo video ve le mostro tutte Prima di tutto, che fine fa il lupo base di Minecraft? Quello che ora sarà chiamato Pale Wolf Praticamente quello dal pelo pallido bianco Sponerà in particolar modo nella taiga Il lupo base di Minecraft resterà tale nel senso che se noi lo andiamo a sponare in un qualsiasi bioma avrà quell'aspetto Però sponato naturalmente in survival lo troveremo solamente nella taiga Infatti posso sponarlo ovunque ma in natura non sponerebbe mai ad esempio nella pianura E se gli diamo un osso? Beh se andiamo a dargli un osso non cambia nulla Hanno il collare però la variante rimane esattamente quella Detto questo il lupo più frequente che troveremo non sarà più questo Perché statisticamente quello che dovrebbe diventare il più frequente è il lupo delle foreste Ovvero quello che vi ho fatto vedere nell'intro Questo particolare lupo infatti sponerà in tutte le foreste che sono uno dei biomi più diffusi dell'overworld Molto carino come vedete ha questo pelo che ricorda un po' il pastore tedesco Però diciamo che definire le razze a partire dal colore del pelo sarà un po' difficile Perché per il resto sono tutti con lo stesso modello, sono uguali Le cose cambiano andando in una snowy taiga Perché in questo tipo particolare di taiga, quella innevata, sponerà quest'altro lupo Un lupo che ha un pelo color cenere, così viene definito Che è quasi un po' colorato, sembra un grigio bluastro, molto particolare devo dire E immaginate che oltre ad avere il pelo diverso ora possiamo fare un sacco di cose Perché se prendiamo del colorante, ad esempio prendiamo questi coloranti che potrebbero adattarsi una crafting e anche un'armatura Possiamo ora fare delle combo assurde Ad esempio scegliamo questo tipo di lupo con questo pelo Andiamo a mettergli un collare ciano e poi gli facciamo l'armatura con un blu particolare Adesso ne ho fatto uno a caso Però insomma questa combo è unica Potremmo fare la stessa cosa ma con un lupo con un altro pelo Quindi tutte le grandi varianti che già avevamo settimana scorsa Si possono moltiplicare per 9 perché ora ci sono 9 tipi di lupi Incredibile Ah e ragazzi sono così emozionato da questo cambiamento perché lo attendevo davvero da un sacco che non vi ho neanche chiesto un like Mi raccomando lasciate un like al video Ve li faccio vedere poi tutti 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 i lupi E alla fine del video vorrei sapere nei commenti quale lupo vi piace di più tra le varianti che vi sto mostrando Fatemelo sapere io li sto vedendo insieme a voi quindi devo ancora decidere Dopo vi dirò cosa ne penso E attenzione qui Attenzione perché questa variante del lupo spone in un particolarissimo bioma Ovvero basta prendere F3 e leggere vicino al bioma La Old Growth Pine Taiga La cosiddetta Mega Taiga di una volta Che ha delle varianti Quindi attenzione perché vi potreste confondere In questa variante con questo albero Che sembra appunto un enorme pino Spona il lupo dal pelo nero Questo qui è davvero particolare E mi piace perché potrebbe abbinarsi molto bene con i colori dell'armatura Quindi promette davvero tanto Potrebbe essere il mio preferito Ma attenzione perché se anziché cercare questo bioma Cerchiamo l'altra variante ovvero la Old Growth Spruce Taiga In quest'altro bioma che sta qui vicino Ma che è diverso ragazzi Cioè guardate per farvi capire Questa è la variante diversa da quella dove eravamo prima Non sono neanche io sicuro Comunque ha degli alberi leggermente diversi Questa variante Qui possiamo trovare quest'altro lupo Anche questo è davvero molto carino Lui si chiama Chesnut Wolf Ed è una variante che spona come quello precedente in realtà In piccoli branchi che vanno dai due ai quattro esemplari Lui molto molto carino Potrebbe essere il mio preferito anche lui Mi stanno piacendo tutti devo dire Se ve lo stesse chiedendo Chesnut significa castagne Infatti è un po' il colore delle castagne Ma il lupo che invece spona qui dentro Che è la variante della giungla Ma attenzione Il bioma chiamato Sparse Jungle Ovvero la giungla quella di questo tipo Con gli alberi piccoli E abbastanza pianeggiante Ecco questo particolare bioma Ha il Rusty Wolf E come vedete Sembra un po' color ruggine Anche questo è davvero molto bello E anche questo ovviamente Se gli diamo l'osso Non cambia colorazione Semplicemente ottiene il collare Quindi tutti quanti Mantengono la loro colorazione di base E adesso Ci spostiamo nella savana Perché nel bioma cosiddetto savana plateau Ovvero questi altopiani di savana In questo bioma troveremo Lo Spotted Wolf Che come vedete Ha un pelo maculato Questo è il più particolare di tutti E devo dire che Non mi fa impazzire Sembra un po' disordinato Forse andrebbe un attimo Sistemata la texture Che fa un po' confusione Diciamo che L'idea comunque ci sta Però una sistematina Io personalmente gliela darei E adesso In particolar modo Ci spostiamo nelle bedlands Ovvero la ex mesa Bioma tutt'altro Che semplice da trovare Perché in realtà Abbiamo bisogno Delle wooded bedlands Che sono quelle Teoricamente con gli alberi Ora Siamo nelle wooded bedlands Però questo bioma È esponato decisamente male Quindi non ha questo aspetto Normalmente Adesso proviamo a cercarne un altro Ma intanto vi faccio vedere Il tipo di cane Che troviamo qui dentro Questo cane Si chiama striped wolf Ed è ovviamente striato Ricorda un po' il pelo Di una iena Molto carino Anche questo Molto originale È un cane Interessante Adatto al deserto Adesso proviamo a spostarci Perché vorrei farvi vedere Un bioma fatto bene Perché se no Con questo esempio È un po' difficile capire Quale bioma cercare Senza per forza Utilizzare F3 Eccoci Questo è il bioma giusto Queste sono le wooded bedlands Ovvero gli altopiani In cui crescono gli alberi Con quest'erba Da un colore molto strano Molto arido Come bioma Questo è il bioma Dove espona Questo particolare lupo Quello di prima Era Un esempio È uscito male Tra l'altro qui ci sono Anche gli armadilli Quindi si è molto comodi Per fare subito L'armatura Però se volete Cercarlo visivamente Cercate Questo bioma Con gli alberi Nella mesa Infine L'ultimo lupo Si trova nel bioma Cosiddetto groove Ovvero Questo boschetto qui Non è facile Identificare questo bioma Basta vedere F3 Si scrive grove Ma è quel bioma Di transizione Quando ci sono Le montagne innevate Di solito Anche qui Per intenderci Penso sia Sempre Esatto È sempre il bioma Giusto Quindi diciamo Che è quella sorta Di taiga innevata Che trovate A ridosso delle montagne Sotto c'è L'altopiano Chiamato Middle Che è questo Bioma Con i fiori Dai colori freddi E adesso In questo boschetto A ridosso delle montagne Che non è la taiga innevata Qui infatti C'è tutta neve a terra È un'altra cosa Mi raccomando C'è la powder snow Eccetera eccetera In questo bioma Trovate Lo snowy wolf Quindi Il lupo Delle nevi Che è diverso Da quello che abbiamo visto prima Ed è un lupo bianco Con alcune striature Argentate L'altro Della taiga innevata Aveva il pelo Più grigio Questo invece è più tendente Al bianco Molto carino Non il mio preferito Devo dire che i miei preferiti Sono quelli Delle Delle due varianti Diciamo Della mega taiga Quello nero E quello castagna Sono molto molto carini Fatemi sapere nei commenti vostri Invece ovviamente Per quanto riguarda le caratteristiche di spawn Quest'ultimo lupo Spona sempre da solo I due precedenti Nelle bedlands Nella savana Invece Sponano in gruppi più larghi Dai 4 Agli 8 lupi Quello Castagna Così come quello nero Così come quello Color ruggine Della giungla Sponano In gruppi dai 2 Ai 4 E in questo modo Dovremmo averli detti tutti E ora Alcuni cambiamenti Per aggiustare Lo spawn Dei lupi E Renderlo compatibile Con i nuovi biomi In cui sponano Ora I lupi possono sponare Anche sulla Terra brulla E sul pozzo Cosa che altrimenti Avrebbe reso complicato Lo spawn Di alcune varianti Inoltre Nel bioma Che abbiamo appena visto Che stiamo per Vedere ancora Cioè il groove Questa sorta di Tiger nevata Ad alta quota Sono stati aggiustati Gli spawn Dei mob Passivi Dei mob Diciamo pacifici Quindi oltre ai lupi Possono sponare Conigli E volpi Quindi in questo modo Hanno un attimo rivisto Le caratteristiche Di questo bioma Devo dire che mi piace tanto Il fatto di aver aggiunto Le varianti di lupo In questo modo Cioè potevano renderle Casuali E sarebbe stata Una cosa comunque bella Perché sarebbe stata comunque bella Ma ci hanno dato invece Un motivo in più Per cercare nel mondo I biomi più strani Più rari Le varianti più particolari Perché lì Abbiamo un premio Ovvero Una variante unica di lupo Quindi Oltre ad aggiungere i lupi Vanno anche a valorizzare Alcuni biomi E l'esplorazione Secondo me Un'aggiunta Davvero ben fatta Non vedo l'ora Di sapere cosa ne pensate Perché Dopo un periodo Molto lungo Di magra Ogni tanto Ci stanno Scacciando fuori Delle belle aggiunte E lo sappiamo bene Quando mettono Questa tipologia Di novità Nascondono spesso Degli stragg Tra l'altro qui c'è Un branco di lupi Che è sponato naturalmente E ad esempio I gatti Hanno una texture unica C'è un gatto Che può tenere Rinominandoli In un certo modo Per i lupi Questa cosa Al momento non c'è Sono andato Ad aprire i file Dello snapshot E ho cercato Le texture Dei lupi Trovando tutte quelle nuove E confermando Che non ci sono Al momento Varianti segrete Però io terrei d'occhio Un attimo Le prossime versioni Perché magari Qualchi easter egg Ce lo buttano dentro O magari qualche altro Lupo nuovo Potrebbero inserirlo Che ne so Magari nel bioma Dei ciliegi Potrebbero mettere Un lupo Che ha i colori Dello shiba inu Che è il cane Tipico Del giappone Mi viene in mente Come primo esempio Infatti Una delle prime cose Che ho fatto Scaricato lo snapshot E' stato controllare Quel bioma Ma lì Non c'è niente Comunque Li abbiamo visti tutti E per passare oltre In realtà Non c'è molto altro Da dire Di questo snapshot Abbiamo un cambiamento Che riguarda I tooltips Quando noi Selezioniamo un oggetto Con delle caratteristiche Possiamo vedere Sotto il nome Vari descrizioni E qui dentro Si può anche inserire La lore Bene Il cambiamento Che è stato fatto Se non ho capito male È che non sarà più possibile Mettere descrizioni O caratteri Che fuoriescano Dal box Che contiene il testo Non l'ho ben capito Perché non ho neanche capito In quali casi Questa cosa succedeva Ci sono poi Ci sono poi un sacco Di novità tecniche Anche questa settimana Che riguardano I data pack E quindi La possibilità Di personalizzare il gioco Sapete già Che stanno cambiando Un sacco di cose Hanno aggiunto Game rule Attributi Comandi Hanno eliminato Hanno eliminato In queste sorprese Stasera in live E domani Con un nuovo video Un saluto da Eren Ciao a tutti